Ciao ragazzi, bentornati nel mio canale. Oggi recensione dell'album numero 2 di Dylan Dog, Jack lo Squartatore, che come potete vedere è in edizione originale del 1986. Copertina come sempre di Claudio Villa, che per i primi 41 numeri ha disegnato Dylan Dog, è copertina molto buona, molto bella, che raffigura la prostituta morta, che questa storia c'entra in maniera relativa, e dietro questa famigerata ombra di Jack lo Squartatore. Una cosa che vorrei dirvi e che ho sentito è che all'epoca, quando stampavano le copertine di Dylan Dog, non usavano la tecnica grafica che usano ora con il computer, ma facevano tutto con delle stampe, con delle pellicole particolari che usavano i grafici per fare le copertine. E Claudio Villa aveva trovato un sistema per rendere lucente praticamente la copertina, per far risplendere di più i colori. Quindi queste copertine di Dylan Dog sono state anche un'innovazione da quel punto di vista lì, vedi? Come dire, vedi questo riflesso? Cioè dà l'idea di lucido. Era una tecnica che si erano inventate in Bonelli, non mi ricordo se è su proposta di Claudio Villa o di Tiziano Sclavi, per far risaltare di più i colori e le sensazioni sulle copertine. Soggetto a sceneggiatura di Tiziano Sclavi e disegni di Gustavo Trigo. Allora, di cosa parla questa bellissima storia? Questa storia parla praticamente di, come dice il titolo, di Jack lo Squartatore. Allora, che succede? Durante una seduta spiritica una medium praticamente evoca il fantasma di Jack lo Squartatore. Eccolo qua. E dal giorno dopo tutte le persone presenti alla seduta spiritica cominciano a morire con un coltello, comunque con il metodo che usava Jack lo Squartatore per ucciderlo. E allora che succede? Che la figlia della medium, praticamente la figliastra della medium, va da Dylan Dog per usarlo come alibi. Nel senso, dice Dylan, io non ho fatto niente. Dimostra che è Jack lo Squartatore, che hanno evocato ieri, che sta facendo tutti questi delitti. E Dylan accetta il caso. Quindi collabora con l'ispettore Block, che è il numero uno, non ve l'ho ramentato, ma Dylan collabora sempre con l'ispettore Block, che è una specie di padre per lui. Cioè, lui era uno dei suoi migliori agenti e quindi lo vede come un figlio e lui chiede sempre aiuto a Block. E quindi ora che non è più agente di Scotland Yard, si fa aiutare da Block per risolvere i casi. E questo lo farà fino al numero 337. Quindi fino alla gestione di Roberto Ricchioni. Quindi che succede? Che Dylan Dog si trova a fare questa indagine e a tentare di scoprire se è veramente il fantasma di Jack lo Squartatore o se è qualcun altro a fare i delitti. Alla fine, la soluzione dell'enigma è ambigua. Perché? È vero che è Jack lo Squartatore e non è vero che è Jack lo Squartatore ma che è un altro. Quindi questo albo ha un finale che mi ha lasciato abbastanza di sasso. Perché nella prima parte del finale si scopre chi è l'assassino umano. Nel finale c'è un bel cliffhanger, un bel colpo di scena, che invece ti fa cambiare idea e quindi non si riesce a capire che cacchio succede. I disegni sono di Gustavo Trigo. Allora, Gustavo Trigo, io da quello che ho sentito, è un argentino, uno straniero. E sinceramente non mi piace. Cioè fa dei disegni che sono abbozzatissimi. Cioè adesso vi faccio vedere anche Dylan Dog. Guardate, sembra un furetto, mi sembrava la faccia. Cioè è approssimativo secondo me, è un po' troppo accennato, non ha tanti dettagli. Ha un tocco vintage. Cioè sembra un disegnatore degli anni 50, gli anni 60. Mi ricorda, sulla fisionomia di Dylan, mi ricorda molto molto Carlo Ambrosini. Dopo magari mi sbaglio, ma ha un tipo di disegno che assomiglia molto a Carlo Ambrosini. Dopo non so se è Carlo Ambrosini che si rifà a Gustavo Trigo o se è Gustavo Trigo che si rifà a Ambrosini. Comunque si assomigliano molto come maniera di disegno. E Block è biondo, non ho capito questa cosa, bianco biondo, che è buh. Se dovrebbe essere l'attore Robert Morley, buh, non gli assomiglia a niente. Se voi guardate Robert Morley è biondo, è moro. E invece in questa storia Block è capelli bianchi, che non ho capito il perché. Espressioni abbastanza ridicole in alcune scenette. I disegni non mi hanno detto tanto. Mi hanno detto particolarmente sulle scenografie, tipo questa statua qui di cera, che è fatta molto bene. E alcune scene tipo di sesso, tipo queste qui, tipo un po' così, vedete. O con questa matite, matitata così. Ecco, quindi comunque è un albo che vi consiglio di leggere. Perché i Dylan Dog ce ne sono veramente su 300 e quasi 60 numeri che sono usciti. Di storie veramente brutte ce ne sono poche. I primi 100 io li consiglio. Allora, anche fra i primi 100, tutti dicono che sono i migliori, che sono i più belli, ci sono le stronzate anche tra i primi 100. E facendo queste recensioni io vi dirò. Questo albo qui, a parte per il finale, non è uno dei miei Dylan Dog preferiti. Cioè, non... Boh, tanti dicono che i primissimi Dylan Dog, oddio, ti fanno perdere la testa. Ma sinceramente, questo numero due, a parte il finale ambiguo, non mi ha detto tantissimo. Hanno fatto di meglio, secondo me, dal terzo in poi. In quella fascia lì, dal terzo al decimo, dodicesimo, c'è proprio un Dylan Dog che a me piace parecchio. Questo albo qui vi consiglio di leggerlo. È più che altro un giallo. È più un'investigazione, una cosa di investigatori. Quindi non... Non è proprio il Dylan Dog che io adoro. È bello, perché comunque Sclavi... È bravo. Se ti scrive le istruzioni della Lego, penso che te lo scriva bene. Quindi va letto. E una cosa invece, sull'argomento trattato, cioè questo Dylan Dog qui, è vero che è un giallo, è vero che è un cercare l'assassino, però in questi primi Dylan Dog si voleva tanto porre l'attenzione più che sul... Cioè, erano storie basate su dei mostri. Ad esempio questo, Jack lo squartatore, si presume che sia una storia su Jack lo squartatore. Ciò che mi ha comunicato Sclavi è l'idea che in realtà i veri mostri, cioè in questi e in altri numeri che ci saranno dopo, nei primissimi, l'idea è quella di far capire che in realtà i veri mostri sono le persone. Questa è una cosa che me lo tira su parecchio. Cioè a me il Dylan Dog dell'inizio è una cosa che ci ho fatto caso, che alla fine si pensa sempre che l'assassino sia il mostrone, e invece alla fine i mostri a volte sono buoni, e invece la merda sono le persone anche magari innocenti. Ecco, questo è tutto. Se questa recensione vi è piaciuta lasciatemi un commento, condividetela con chi volete e se volete iscrivetevi al mio canale. Grazie e alla prossima. Ciao ragazzi. Grazie. Grazie.